Il portiere laziale Pulici, concluso il primo tempo senza essere stato troppo impegnato, è stato battuto al decimo della ripresa sulla prima vera offensiva a Granata e di Graziani il gol che deciderà l'incontro. Da questo momento, con una Lazio sbilanciata eccessivamente in avanti alla ricerca del pareggio, il Torino avrà numerose possibilità per rendere più vistoso il successo. La prima occasione si presenta a Rampanti, su invito di Graziani, ma la mira è sbagliata. Poi è la volta di Graziani a presentarsi solo davanti a Pulici che in uscita riesce a sventare l'insidia in calcio d'angolo. Nel finale i Granata ritengono opportuno chiudersi in difesa del vantaggio e della Lazio ad avere le migliori occasioni per pareggiare. Un tiro di Nanni sorvola la traversa. Poi su cross di Frustalupi, Chinaglia si produce in una girata non perfettamente riuscita, ma abbastanza valida per costringere Castellini in angolo. Infine, su corta respinta di Fossati, è ancora Chinaglia a impegnare a...